Buongiorno amici, bentornati sul mio canale. Io sono Francesca, in caso non mi conosciate, oggi vi racconto la mia esperienza di come mi sono laureata nei tre anni accademici, ma anche lavorando. Se sei incappato in questo video, probabilmente dovrai iniziare un percorso di studi universitari e ti stai domandando se è possibile laurearsi, quindi studiare, ma anche lavorare, far combaciare queste due cose importanti e molto impegnative. Oppure hai già iniziato un percorso universitario e conosci anche un po' questa dinamica delle stagioni che andrò a spiegarti, ma magari vuoi sentire l'esperienza di qualcuno che l'ha vissuta in prima persona. Quindi oggi ti racconto la mia esperienza di come ho gestito il mio studio in una università di economia e commercio, mentre ho anche lavorato e ho fatto le stagioni in montagna, in particolare in Trentino Alto Adige. Ho qui sotto il computer con tutte le date, perché sinceramente non me le ricordavo, ormai sono passati un po' di anni e sono andata su Instagram e nelle foto a ripercorrere un po' tutte le vicende e soprattutto i periodi per darvi un po' anche di contesto, di indicazioni temporali. Prima di iniziare io vi invito fortemente a commentare, fatemi tutte le domande che vi tengono in mente, tutti i dubbi che volete risolvere, perché io in questo caso vi racconto soltanto la mia esperienza, ma magari non rispondo a certe domande che avete. Quindi sarei molto molto contenta di fare un prossimo video in cui rispondo esclusivamente alle domande che mi ponete qua sotto. e invito anche chi ha fatto un'esperienza simile a parlarci della sua esperienza, in modo tale che questo video diventa un luogo di incontro di più esperienze, sia quella che riporto io, sia quella che riportate voi nei commenti. Iniziamo quindi dalle origini. Siamo a inizio luglio del 2017 e io sto per diplomarmi. Prima del diploma però ho preso una settimana di ferie, diciamo, nel senso che io e il mio compagno siamo partiti per il Trentino Alto Adice, con due scuse. La prima era quella di mostrarmi dei luoghi che non avevo mai visto, io è in quel momento che mi sono innamorata della montagna, che non avevo mai visto in estate. E secondo motivo quello di portare curriculum e vedere un attimo la situazione per lavorare appunto in Trentino. In particolare abbiamo alloggiato a Trento, dove abbiamo portato curriculum nei negozi classici della città, tra l'altro Trento Favolosa, mi sono innamorata, era proprio la mia cittadina, mi sarebbe tanto piaciuto studiare lì, ma le cose sono andate diversamente. E poi siamo andati a Madonna di Campiglio. Noi avevamo proprio stampato i nostri curriculum cartacei e andavamo proprio di persona a lasciare il curriculum. Ammetto che è un metodo un po' adatato. Adesso, così come io ho fatto anche nelle ultime stagioni, non è assolutamente necessario andare di persona fisicamente nel posto di lavoro, ma è sufficiente un'email, oppure tramite agenzie del lavoro o ancora tramite annunci su Indeed, che è la piattaforma secondo me più completa. Basta candidarsi in questo modo, i datori di lavoro vi assicuro che le mail le ricevono, le guardano e se sono interessati sicuramente vi contatteranno. Noi siamo stati molto fortunati perché il giorno stesso, e che abbiamo portato di curriculum a Madonna di Campiglio, la mattina, il pomeriggio ci hanno chiamato due hotel, uno per il mio compagno e uno per me. Ci hanno fatto la loro proposta, hanno chiesto anche di incontrarmi personalmente, quindi poi eravamo in giro per posti lì vicino, siamo tornati e ho fatto il colloquio in hotel con il maître e ufficialmente ci avevano preso. Quindi il tempo di tornare giù, fare le valigie per i prossimi tre mesi, e siamo ripartiti la settimana successiva per iniziare questa nuova avventura. Io ero piccolissima, avevo 18 anni e non sapevo bene cosa fare a livello di studi, non avevo ancora in mente se iniziare l'università, ma soprattutto più che inizia iniziarla perché credevo di volerla fare, non sapevo quale. Quindi la mia idea era quella di prendermi proprio un anno sabbatico, iniziando dall'estate e poi avrei fatto anche l'inverno, per schiarirmi un po' l'idea e capire effettivamente che cosa volevo fare. E ammetto anche che siamo stati molto molto fortunati ad essere presi subito perché a luglio, ragazzi, è troppo tardi, troppo troppo tardi. Luglio le stagioni sono già iniziate da un bel pezzo, il problema, anche se in Trentino, comunque in montagna, le stagioni iniziano appunto a luglio, qua in estate ho iniziato a maggio. La nostra fortuna è stata che questi hotel erano abbastanza disperati perché volevano aumentare il proprio organico o non avevano trovato ancora qualcuno. Quindi siamo caduti proprio a fagioli, è stata proprio una botta di bip e quindi ci hanno preso. Vi dico anche che io non avevo assolutamente nessuna esperienza, se non veramente avrò fatto tre serate in un ristorantino qua vicino nella mia città, proprio per prendere un attimo mano. Infatti un consiglio che vi do è se magari avete qualche parente, qualche amico di amico di amico, genitori, eccetera, che hanno un'attività, caso si parla di ristorazione, comunque perché io ho iniziato da cameriera, chiedere il favore di farvi lavorare per un periodo, tanto per prendere un attimo le nozioni principali appunto di questo settore, perché non è un lavoro estremamente complicato, anche se è molto molto impegnativo il lavoro in sala come cameriere o ancora di più quello in cucina, però comunque ci sono delle dinamiche, delle procedure che è bene sapere per organizzarsi e soprattutto andare d'accordo anche con gli altri e non essere un peso. Io inizialmente mi ero sentita un po' un peso perché veramente non sapevo cosa fare, per fortuna anche in questo caso sono stata strafortunata e ringrazierò a vita il maître con cui ho fatto il colloquio e che poi mi ha seguito perché mi ha insegnato di tutto e di più, mi ha insegnato veramente qualsiasi trucco del mestiere, lui aveva un'esperienza assurda e quindi è stato veramente un maestro di vita e professionale soprattutto. Quindi questa stagione per me è stata fondamentale proprio per imparare un mestiere da zero e poi essere facilitata per eventuali altre esperienze. Quindi faccio la stagione estiva che è durata appunto da luglio, agosto e poi fino a metà settembre e poi decido anche di continuare per l'inverno. Quindi da settembre fino ai primi di dicembre, se non sbaglio, sono stata a casa e poi da dicembre fino a dopo Pasqua sono ritornata su per lavorare nella stagione invernale. Così ho avuto anche una panoramica di queste due stagioni molto differenti, l'estiva e l'invernale. Avevo concordato uno stipendio di 1200 euro con vitto alloggio e effettivamente i soldi che arrivano sulle stagioni sono molto convenienti proprio perché non dovete occuparvi di affitto, di cibo. Io mangiavo con il cibo che preparava appunto la cucina, avevamo degli orari, pranzo, cena e anche colazione in realtà perché poi prima di iniziare il servizio della colazione ci mangiavamo qualcosa oppure se iniziavo più tardi c'era sempre una parte adibita ai dipendenti. Quindi io incassavo 1200 puliti, lì a Madonna di Campiglio non è che ci siano chissà che attività, a volte andavamo in discoteca, ma se non ricordo male era addirittura gratuita. Pure a bere qualcosa è così, però noi non è che andavamo tutte le sere anche perché poi la stagione è molto impegnativa, si è molto stanco, quindi quanto si è giovane, quindi magari facevamo anche le 3, le 4 di notte per poi andare a lavoro alle 6, è capitato, adesso è impensabile per me, però lo facevi quella una o due volte a stagione, insomma non capitava di frequente nel mio caso perché non sono un'estremamente festaiola. In inverno il compenso era lo stesso, ovviamente per più mesi, quindi io all'estate successiva, quindi nel 2018, avevo comunque risparmiato un bel gruzzoletto, tant'è che proprio quell'anno se non sbaglio decisi di rifarmi il naso e di investire questi soldi diciamo appunto su di me. Finita la disoccupazione, io ho continuato a percepire uno stipendio perché per chi non lo sapesse esiste la disoccupazione, cioè se hai lavorato per almeno 3 mesi negli ultimi 2 anni, hai diritto appunto alla NASPI che è un circa 80% dello stipendio, di una media degli stipendi dell'ultimo periodo, per i primi 3 mesi se non sbaglio e poi va a calare. A me sono stati sufficienti 3 mesi perché ho fatto l'estate e poi subito ho ripreso con l'inverno. Nel momento in cui inizia a lavorare ovviamente la NASPI si interrompe, bisogna dare comunicazione, percepisce ovviamente lo stipendio da lavoro fino a che il prossimo anno non si ritorna in disoccupazione. E bisogna anche dire che la disoccupazione è accumulativa, per esempio avete un contratto di un anno, dopo l'anno entrate in disoccupazione e avete diritto per esempio a 5 mesi di disoccupazione. Sono esempi, ovviamente chiedete ai vostri consulenti, andate nei centri per l'impiego, chiedete insomma a dei professionisti, questo è solo per darvi un'idea. Quindi se voi percepite una disoccupazione di 5 mesi, ma trovate lavoro dopo soltanto 2 mesi, non è che quei 3 mesi che vi mancavano di disoccupazione vanno persi. Li percepirete in futuro se ritornerete in disoccupazione e ad anno ad aggiungersi ai mesi che avete maturato. Spero di essere stata chiara, che mi abbiate capito. Però ecco, è una grande agevolazione ovviamente. Dopo l'inverno 2017, dopo queste due esperienze, estiva e soprattutto l'invernale che è stata non traumatica di più, la peggior stagione della mia vita, bisogna anche trovare il posto giusto. Purtroppo non è stato il caso dell'estate in cui mi sono trovata bene, è stato il caso invece dell'inverno in cui è cambiato il direttore ed era una belva. Una belva. Io non ho mai lavorato sotto un datore di lavoro così terribile, veramente. Piangevo praticamente un giorno sì, un giorno no. E infatti dopo quella stagione non mi hanno più rivisto e abbiamo deciso, io e il mio compagno che ci siamo sempre mossi insieme, di spostarci e andare in un'altra valle che è quella di Valdifassa e quindi a Canazzei. Perciò nell'estate del 2018 ho appunto iniziato la stagione a Canazzei in un hotel dove poi ho proseguito per i successivi 4 anni o meglio 4 estate. Questo perché appunto a settembre 2018 io ho iniziato l'università in economia e commercio e pertanto io da settembre fino a giugno, anche luglio, magari se c'erano gli esami estivi, studiavo, mi dedicavo completamente allo studio, percepivo la disoccupazione per un totto mesi e poi magari andavo a fare dei servizi il sabato sera in un ristorante qua vicino e poi da luglio, inizi luglio, fino a settembre, metà settembre, anche un po' prima, lavoravo, facevo le stagioni in Trentino. In Valdifassa lo stipendio era un po' maggiore, comunque avevo fatto un po' di esperienza, avevo concordato uno stipendio maggiore, anche in questo caso con vitto e alloggio. Il primo anno, i primi due anni, ero da sola e Saverio lavorava in un altro hotel, dal terzo anno ho addirittura chiesto, proposto, di far lavorare nello stesso hotel anche il mio compagno. Con questo hotel più piccolino a conduzione familiare, dopo i primi due anni in cui comunque si era installato un bel rapporto di fiducia professionale ma anche amichevole, avevo proposto di fare entrare il mio compagno a lavorare come dipendente. Poi è successo il Covid e noi abbiamo comunque lavorato ma eravamo appunto soltanto noi due che lavoravamo insieme. Ci siamo comunque trovati bene, loro hanno consentito, magari erano anche un po' spaventati di avere una coppia, l'unica coppia come dipendenti perché si sa che poi se c'è qualche litigio le cose si complicano però per noi è sempre andata bene. Abbiamo fatto i successivi tre anni così e devo dire che sono stati degli anni molto molto belli, delle stagioni molto belle perché comunque io ormai era diventata autonoma nel lavoro, i responsabili si fidavano ciecamente di me, io mi impegnavo perché d'altra parte ho scoperto anche una passione in questo lavoro e infatti una cosa che voglio dire mi sento di dire è quella di provarci, di provare a fare esperienze perché non saprete mai cosa vi capita nella vita, io per esempio appunto mi sono appassionata a questo lavoro e non nego che in futuro potrei ritornare nel settore turistico ma se non avessi fatto queste stagioni mai mi sarebbe venuto in mente di lavorare nel settore turistico. Durante l'inverno io studiavo, davo gli esami che dovevo dare, vivevo con i miei genitori ancora perché poi alla fine ho deciso di andare in un'università qua vicino e quindi di farla pendolare ma comunque si trattava di un quarto d'ora, venti minuti di auto, un po' più di autobus quindi assolutamente fattibile poi è successo comunque il covid quindi per un anno io praticamente ho studiato da casa le lezioni erano fatte tutte da casa come saprete con i guadagni che avevo fatto durante l'estate che comunque erano bello e consistenti più la disoccupazione che percepivo io tranquillamente andavo avanti fino alla stagione successiva anche perché appunto vivendo con i miei non avevo chissà che grandi spese ho impiegato soltanto un semestre in più rispetto ai tre anni canonici ma comunque ero in corso perché fuori corso va a partire dall'anno accademico successivo ma semplicemente perché dovevo scrivere la tesi e non volevo farla con fretta avevo già iniziato a lavorare a chiamata in un altro hotel in questo caso non era una stagione ma era proprio un lavoro annuale quindi io ero tranquilla riuscivo a combaciare appunto questo lavoro a chiamata che principalmente si svolgeva durante le mattine e a scrivere appunto la tesi che per me non è stato proprio facilissimo quindi volevo proprio avere del tempo per dedicarmici bene e quindi ho deciso di non laurearmi per la sessione estiva dovendo fare le corse e tutto e nemmeno per quella autunnale ma direttamente per il febbraio dopo quindi per quella invernale col senno di poi è stata la cosa giusta proprio per non avere questa pressione questa ansia che nel mio caso sarebbe stata inutile perché appunto non mi correva dietro nessuno chiaro è che secondo le linee temporali canoniche mi sono laureata un anno dopo ma semplicemente perché ho preso un anno sabbatico poi in realtà non è stato un anno sabbatico perché ho lavorato quindi ho investito quel tempo per avere più risparmi per togliermi certi sfizi siamo andati in viaggio in Islanda comunque è stato un viaggio consistente in termini economici quindi mi sono tolta tutte quelle piccole cose prima di iniziare un grande percorso come l'università e io sono molto contenta di aver fatto questa cosa perché sono riuscita a far combaciare appunto soprattutto a dividere bene il periodo invernale con il periodo estivo con quello estivo lavoravo con quello invernale studiavo e anche in questo caso se siete bravi riuscite anche a prendervi dei periodi di stop una settimana due settimane durante le feste durante prima dell'inizio del periodo estivo e dopo quindi in concomitanza tra la fine della stagione e l'inizio dell'anno accademico per farvi una vacanzina o semplicemente riposarvi come è stato nel mio caso un altro aspetto molto bello secondo me delle stagioni è che potete sperimentare una vita un po' diversa cioè come se partiste per un lungo viaggio e scopriste una nuova identità di voi perché comunque vivete in un posto diverso lontano da casa se preferite ma in realtà potete cercare anche vicino casa nulla vi vieta di farlo secondo me la stagione è proprio bella viversela fuori ma addirittura all'estero cioè non c'è alcun limite alla stagione anzi se l'ho fatta all'estero è una grande opportunità per imparare una lingua per farla propria anche questo è molto bello molto importante per poi esperienze lavorative future per nuove opportunità per quanto riguarda l'estero ovviamente non so consigliarvi come muovervi perché io l'ho fatta in Italia però sono sicura che troverete qualche informazione su internet o da qualche amico e parente considerate ovviamente che la stagione nelle montagne dura da inizia più tardi quindi è una stagione molto più breve per quanto riguarda l'estate ma molto più lunga per quanto riguarda l'inverno ovviamente perché inizia appunto da luglio forse fine giugno fino ai primi di settembre mentre una stagione in estate potreste già iniziare a lavorare da maggio fino a settembre inoltrato quasi ottobre dipende anche qui da dove lavorate più andate al sud più avete possibilità di lavorare per più mesi e mi raccomando un consiglio che ci tengo tantissimo a darvi non accontentatevi del primo che trovate perché io vi assicuro ma ve lo dico proprio certamente perché ci ho lavorato nel settore io ho iniziato da cameriera ma poi sono arrivata fino alla reception quindi vedevo anche le dinamiche i datori di lavoro mi raccontavano anche le loro difficoltà nel trovare dipendenti i dipendenti al giorno d'oggi non si trovano per le stagioni non dite sì al primo che vi contatta soltanto perché avete paura di non trovare altro io vi assicuro che se voi mandate curriculum per email con una bella presentazione un bel curriculum fatto bene e voi siete delle persone serie e professionali nel giro di poco vi contattano almeno due o tre hotel potete fare potete sentire le loro proposte poi valutare quella meglio per voi e se non vi trovate bene in quell'hotel io vi consiglio anche di cercare altrove anche se state lavorando in quel posto è brutto doversene andare perché comunque fate una mancanza all'hotel però se oggettivamente quello è un ambiente tossico dove voi state male ragazzi è vero che avete un contratto ma i contratti si possono recedere cioè non succede niente se vi licenziate perché state male però ecco valutate perché comunque fate un grande danno anche all'azienda quindi valutate bene questa opzione nel caso mio invernale dove ho passato veramente un inverno infernale anche se già era un sacco di neve io ho tenuto botta anche un po' perché sono una grande tessarda non volevo darla vinta e quindi ho tenuto botta però non vi nevo che è stata veramente una delle esperienze più brutte che ho avuto per il resto invece è andato tutto molto bene ho avuto opportunità di fare tante amicizie con delle persone meravigliose persone anche che con culture diverse che venivano da posti diversi finché vi comportate bene fate il vostro sono sicura che andrà tutto bene inoltre se magari l'ambiente dell'hotel della ristorazione non fa per voi non vi piace magari l'avete già provato c'è anche occasione di fare stagioni nei negozi perché in questi ambienti anche i negozi sono stagionali negozi di free time di abbigliamento di attrezzatura per il noleggio degli sci anche in questo caso assolutamente a meno che non sia appunto conduzione familiare cercano dipendenti perché comunque c'è tanto lavoro ovviamente quindi anche in questo caso sarà sicuramente magari un ambiente più tranquillo rispetto a quello della ristorazione molto impegnativo e potrete trovare degli ambienti vantaggiosi per voi io non ho provato in questo settore anche un po' per ignoranza perché non lo sapevo a quei tempi l'ho saputo poi stando lì vedendo comunque quando sei lì praticamente tutti quelli che vivono all'intorno o sono turisti o sono dipendenti e informatevi anche sugli sconti per i dipendenti perché nei luoghi dove ho lavorato io c'era sempre uno sconto per chi lavorava viveva per i residenti diciamo anche se non è necessario cambiare residenza ma per chi lavorava i negozi facevano degli sconti un 20 un 10% sugli acquisti io credo di avervi detto tutto mi raccomando fate le vostre domande già nei commenti che sono contenta di rispondervi e spero di avervi dato qualche spunto nuovo e di avervi chiarito magari qualche punto noi ci vediamo nel prossimo video e intanto vi mando un bacione in mezzo ciao ciao